Amici di milan.soccer, eccoci, eccoci, è finita la partita, ci sono ancora, c'è qualche minuto, ma insomma è finita nel risultato. Il Milan sbanca, non di poco, l'Eden Arena di Praga e si qualifica per i quarti di finale di Europa League. Lo so, lo so, lo so, avete visto la copertina e vi starete chiedendo a cosa io faccia riferimento. Ora ne parliamo approfonditamente, prima però vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, qui sotto farlo è semplice e gratuito, quindi do anche un benvenuto ai nuovi, quelli che non l'hanno mai frequentato e un bentornato invece a chi lo frequenta già da tempo. Vi ricordo anche un bel pollicione, un like per esprimere il vostro gradimento, il vostro gradimento. Allora, arriviamo a tutto, arriviamo a tutto, lasciatemi dire che sono stati due giorni importanti, due giorni importanti, non ne ho parlato nei video precedenti, un po' per scaramanzia, un po' perché ero concentrato davvero sulla partita di Slavia Praga, Slavia Praga Milan, quindi di Praga e devo dire che adesso che siamo un po' tutti rilassati, sono stati due giorni importanti perché il Milan primavera ha battuto il Real Madrid e quindi è nelle Final Four per il trofeo, la Champions League dei giovani, la Yacht League, poi ieri sera c'è stata la partita dell'Inter che oggettivamente non meritava il passaggio del turno ma ci interessa davvero davvero poco, certo l'abbiamo vista e percepita con gradimento perché il risultato finale è stato davvero divertente, davvero divertente, davvero divertente, soprattutto le reaction post partita e poi siamo arrivati al nostro appuntamento, quello importante, un appuntamento che ha visto in campo una squadra praticamente titolare, Mignan, Calabria, Tomori, Gabbia, Teo Hernandez, Musa, Adli Loftus-Cic, Pulisic, Leao e Giroud, fuori Reinders e Benasser, una scelta che inizialmente devo dire la verità non ho capito fino in fondo ma mi fido fino ad un certo punto, infatti per un altro verso non ho fatto bene, ho fatto bene a non fidarmi perché dunque torna a titolare anche in Europa a Tomori che è stato fuori, a parte il rientro in Serie A della settimana scorsa dopo dieci settimane però in questa settimana proprio al rientro di Tomori ha parlato il suo agente fuori luogo dicendo che mette in dubbio il futuro di Tomori nel Milan, non mi è piaciuto molto, come non mi è piaciuta per niente la gazzetta dello sport che tutto il giorno, tutt'oggi è stata praticamente in lutto e ha messo, pensate un po', in un page i rigori sbagliati nella storia della Champions League quindi il titolo per la gazzetta dello sport era da Ciccio Graziani a Shevchenko nella finale persa contro il Liverpool, questa è stata l'idea editoriale di un giornale che dire ormai essere di propaganda è poca cosa e che fino a dieci minuti dopo l'inizio di Slavia Praga Milan continuava ancora non pubblicare nulla della partita che era praticamente iniziata una squadra la più importante di Milano che gioca in Europa mentre l'altra non c'è più e quindi poteva dare una certa priorità. Altra nota importante, ciao Adli Benassere Musa dunque in pieno Ramadan hanno mangiato solo dopo il tramonto quindi la formazione in parte era anche diciamo così viziata da questo rispettabilissimo rito che hanno perché ognuno ha le sue tradizioni, ha la sua religione non è certo questo canale che deve prendere nessun tipo di posizione anzi la prende e ognuno fa quello che vuole nella vita si parte subito con una incertezza di Mignan che per recuperare si fa male sì però è stato brutto l'intervento dell'attaccante dello Slavia Praga si scalda subito sportiello, cambio sì, cambio no, si perdono i minuti alla fine Mignan non ce la fa, anzi sì, rimane in campo uscirà dopo un po', dopo qualche minuto nel frattempo al tredicesimo minuto e venticinque secondi Mignan ha proprio il tempo di fare l'unica grande parata il suo miracolo, il Milan soffre all'inizio e non ha nessuna intensità agonistica praticamente gioca con la stessa intensità sia all'inizio quando lo Slavia pensava di poter recuperare sia poi alla fine quando il Milan praticamente ha fatto una partita di allenamento sedicesimo, bruttissimo fallo su Calabria veramente brutto in presa diretta Sky dice che non è niente di che l'arbitro vede bene tutto e non interviene né giallo né rosso né arancione né blu poi arriva il VAR e dopo diversi minuti è rosso per Marocchi e non è la prima gaff di Marocchi durante la partita non è il cartellino rosso che doveva essere tirato fuori esce dunque Mignan, entra sportiello per Mignan si tratta di trauma contusivo domani mattina ci saranno gli esami definitivi ma non dovrebbe essere niente di preoccupante ancora al ventunesimo e 45 secondi giallo per Dugherà al ventitreesimo prima azione del Milan ma Leao si perde un po' la palla in area dopo una bellissima azione di Teo Hernández di un grandissimo Pulisic davvero grande tirano di tutto in campo viene ammonito anche l'allenatore dello Slavia Praga e poi inizia il Milan ventisettesimo grande azione da solo di Pulisic che ha avuto potenza e accelerazione incredibili e poi grande parata del portiere saranno due davvero i miracoli del portiere nuovo perché è arrivato a gennaio ventinovesimo Leao solo in area altro miracolo del portiere grande palla di Musa trentunesimo Tomori di testa alto su un bel cross di Adli e al trentatreesimo Teo Leao Pulisic gol undicesimo gol ottantaquattresimo da professionista per l'americano un minuto e mezzo dopo due minuti dopo al trentacinquesimo ancora Loftusic sempre dopo un'azione del Teao il Milan mette in cassaforte il risultato e qui arriva la genialità di Pioli e del suo team perché? perché Mignan, Calabria, Musa e Tomori sono diffidati e in quanto diffidati messo in cantiere il risultato dovevano essere assolutamente sostituiti in particolare i due centrali o meglio nel caso Tomori doveva essere sostituito ma non arriva questa sostituzione quando al quarantatresimo e trenta secondi arriva il giallo proprio per Tomori e la festa è un po' rovinata perché? perché salterà la prossima giornata di andata sì purtroppo sono questi piccoli dettagli che fanno la differenza di un grande allenatore siamo ad una festa in cui va tutto bene è una serata in cui per la prima volta possiamo stare sul divano senza patema d'animo e invece lui cosa pensa? ma non c'è un assistente che ha l'indicazione con le statistiche e gli dice vabbè adesso tirate fuori Tomori perché già non abbiamo nessuno come centrale comunque otto minuti di recupero cinquantesimo Leao stupendo il suo gol e poi il secondo tempo nemmeno ve lo racconto perché sapete come è andata a finire il Milan dunque è ai quarti ci vediamo domani con i soliti video e anche con la diretta per il sorteggio da Nyon è tutto baci ciao ciao